Lancusi. Il toponimo Lancusi deriverebbe dal bizantino terra assegnata, secondo altre interpretazioni da lanciusi, costruttori di lance, di armi bianche prima e poi di quelle a fuoco. Chiesa di San Martino. La chiesa di San Martino Vescovo sorge a fianco la vecchia chiesa dedicata a San Giovanni Battista, in piazza Regina Margherita. L'edificio di Curto si presenta con un impianto centrale, di forma rettangolare, ad aula unica, risalente al XVI secolo, con cinque cappelle disposte su entrambi i lati, tre delle quali con altari. La navata unica termina con una preziosa tela del XVIII secolo del pittore Michele Ricciardi, situata sulla parete alle spalle dell'altare maggiore e raffigurante l'assunzione della Vergine tra un coro di santi. L'interno della chiesa è arricchito da preziose statue raffiguranti diversi santi tra cui quello titolare della chiesa. La facciata della chiesa è in stile settecentesco ed è costituita da un alto basamento su cui poggiano quattro lesene di stile ionico, che sostengono un leggero architrave e un freggio liscio e non decorato. La torre campanaria, disposta in secondo piano, in pietrame a vista, è decorata nei vari piani da finestre morofore. Nella parete del primo piano, affacciata alla piazza, è presente un orologio realizzato da artigiani locali. Piazza Regina Margherita Piazza Regina Margherita prende il nome dalla regina d'Italia, moglie del re Umberto I. La piazza è ampia e di forma circolare. Da esse si diramano quattro delle principali arterie, via Tenente Nastri, via Giovanni Pecoraro, via Fratele Napoli e via Siniscalchi. Fino a qualche decennio fa, la piazza era caratterizzata da quattro fontane in pietra e da quattro tigli secolari, oggi sostituiti da una magnolia al centro della piazza. Scendendo da via Fratelli Napoli, troviamo a destra il Palazzo Barra e a sinistra la chiesa di San Martino Vescovo. Attigua la chiesa, a sinistra c'era in passato un piccolo cimitero privato. Palazzo Barra. Le origini del Palazzo Barra risalgono al XVI secolo, quando l'Ancusi, casale dello stato di San Severino, fu affidata ai feudatari. Il palazzo, situato in piazza Regina Margherita, è a corte aperta e presenta un livello interrato e due livelli fuoriterra. Fin dal 1569 fu dimora delle famiglie de Rugiro, Caracciolo e Barra. Nel 1761 fu sede di un'importante fabbrica di armi. Nel 1823 fu inventata da Giovanni Venditti della suddetta Reale Manifattura la prima pistola automatica, oggi conservata nel Museo delle Armi a Milano, e che gli americani brevettarono poi con il nome di Winchester. Nel corso dei secoli il palazzo ha subito notevoli trasformazioni, che ne hanno modificato la struttura originaria. Altri monumenti di l'Ancusi sono il Palazzo Fratelli Napoli, che diede ai Natali ai carabinieri Alessandro e Giovanni, barbaramente trucidati nel 1943 dai tedeschi. Un altro palazzo è Palazzo Meriani. Le origini del palazzo risalgono al XVII secolo. Situato in via generale Cironastri, presenta una fasciata finemente decorata. Palazzo Sessa Siniscalchi. Le origini del palazzo risalgono al XVIII secolo. Situato in via generale Cironastri, è formato da una corte aperta e due livelli fuoriterra. Grazie. 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 Grazie.